Non ricordo di Gianni Minato. Beh, innanzitutto un amico e poi un giornalista libero, perché l'informazione è libera o non è informazione. Un giornalista con la schiena diritta, capace di scendere nella profondità nella conoscenza delle persone. Le sue interviste erano veramente una consegna di umanità, la consegna delle fragilità ma anche della ricchezza umana delle persone. Per noi è stato un punto di grande riferimento e soprattutto spalancato con le sue visioni, con la sua capacità, la sua professionalità, uno sguardo molto più ampio sulle finestre del mondo. Grazie. 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 Grazie.